L'attività di usura in danno di commercianti rappresenta la principale fonte di procacciamento di capitali illeciti da parte della criminalità organizzata nell'area a nord di Napoli. Questa è sempre stata una peculiarità del Cranmoccia, che ha da sempre preferito questi proventi rispetto a quelli derivanti dall'apertura di piazze di spaccio di droga sui comuni di Casoria e da Fragula. Questi i risultati di indagini condotte dai carabinieri della compagnia di Casoria, che questa mattina hanno arrestato 22 persone, ritenute elementi di spicco del crancamorristico egemone nell'area di riferimento. I carabinieri hanno fatto luce su numerosi episodi di usura e distorsione e danni di alcuni commercianti ed imprenditori della zona, avvenuti tra il 2008 e il 2010, e tutti commessi con l'aggravante di aver agito avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416 Bbis e dal fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso, nonché in danno di chi si trovava in stato di bisogno. L'indagine rappresenta un ulteriore sviluppo di un'analoga attività investigativa, svolta tra il 2009 e il 2010 sui comuni di Casoria e da Fragula, allorquando furono arrestati 11 presunti affiliati al Cranmoccia, per un'essorzione consumata in danno di un'agenzia immobiliare del centro cittadino di Casoria. E' emerso un diffuso sistema di concessione di prestiti a tassi usurai a persone in condizione di grave bisogno economico, costrette a far fronte delle personali esposizioni debitorie, a subire intimidazioni, umiliazioni e violenze fisiche.